Musica Buon pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari al Via, il grande esodo estivo in corrispondenza del primo weekend di agosto. Si prevedeva un sabato da Bollino Nero con Coda in autostrada, ma la situazione almeno in mattinata non ha fatto registrare particolari disagi tra gli automobilisti. Attenzionata invece la statale 16, Bollino Rosso per domani, domenica 4 agosto. Vi aspettavate più Coda? Era previsto Bollino Nero? Sì, invece no, è andata bene, benissimo. Da dove viene? Da Terni. E dove andate? A Polignano. Dove andate? A Maria Lugento. Ecco, è la prima volta? No, la seconda. Ecco, come mai questa destinazione? Da dove arrivate? Da Roma, perché il mare è bellissimo. Lecce, provincia. Da dove venite? Da Monza. Ah, quindi è una lunga strada. Potrebbe essere più lunga perché stiamo andando a prendere i figli, quindi andiamo lentamente. Da Vienna. Vienna. Ok, vi aspettavate più Coda? Spiego di no. Sfilano le prime code, seppur ancora contenute, su strade e autostrade pugliesi. Per il primo weekend di agosto era stato previsto un esodo estivo da Bollino Nero, in particolare nella mattinata di oggi, sabato 3 agosto, con gli automobilisti già muniti di navigatori, bagagli e tanta pazienza. Destinazione? Mare. Eppure il casello di Bari Nord, in direzione sud, ha registrato finora un traffico per lo più scorrevole, sorprendendo molti vacanzieri diretti verso le località di villeggiatura. Tuttavia, secondo gli addetti ai lavori, la situazione potrebbe peggiorare a partire dal primo pomeriggio. Resta attenzionata la statale 16, con la polizia stradale che tiene costantemente sotto controllo la circolazione attraverso i monitor nella sala operativa. Qual è la situazione per questo primo weekend di agosto? Allora, abbiamo un Bollino Nero nella giornata odierna e Bollino Rosso domani. Stessa situazione per il prossimo weekend del mese di agosto, ovviamente. Quindi una situazione che prevede una progressiva intensificazione del traffico veicolare, sia nel circuito autostradale, sia direi soprattutto sulla viabilità ordinaria. Con particolare riferimento alla statale 16, in carreggiata sud, a causa dell'arrivo dei vacanzieri presso le città balneari della nostra regione. Cala il prezzo dei carburanti rispetto all'estate 2023, ma chi in questi giorni deciderà di spostarsi in auto per raggiungere le località di veleggiatura dovrà affrontare un salasso tra costi di rifornimento e pedaggi. Lo afferma Assoutenti, che ha realizzato un'indagine su alcune tratte tipicamente estive, mettendo a confronto la spesa del viaggio in automobile con quella in treno. Oggi la benzina, secondo gli ultimi dati ufficiali del Mase, costa in media 1,8 euro al litro, il 4,7% in meno rispetto al prezzo medio di agosto 2023, con un risparmio di circa 4,5 euro a pieno, analizza Assoutenti. Il gasolio costa invece in media 1,7, il 5,6% in meno su agosto dello scorso anno, con una minore spesa di oltre 5 euro a pieno. Tuttavia la spesa relativa al carburante per affrontare in auto alcune tratte tipiche delle vacanze estive rimane elevatissima tra andate e ritorno. Servono ad esempio in media 392 euro di benzina per coprire i 1.588 chilometri che separano Torino da Palermo. Qui vanno aggiunti 175,6 euro di pedaggio autostratale per un totale di 567,6 euro e di 411 euro la spesa complessiva per raggiungere Lecce da Bolzano. Cresce il turismo in Puglia di circa il 7%, con flussi stranieri in arrivo in aumento del 40%. Ne abbiamo parlato con l'assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane. Quattro turisti su dieci in Puglia sono stranieri, per lo più provenienti da altre capitali europee, ma anche da Stati Uniti, Sud America e Australia. Si confermano mercati ormai consolidati per noi la Germania e la Francia che continuano a crescere, ma si consolidano sempre di più mercati come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna con alcune considerazioni importanti che vanno fatte su mercati del tutto emergenti. Pensate per esempio ai flussi sempre più in crescita di mercati europei come la Polonia. Gli italiani nel primo semestre registrano una crescita in termini di arrivi quasi il 6%, sono stabili invece in termini di presenze e le previsioni che abbiamo per luglio e agosto ci raccontano di un mercato che sarà tendenzialmente in linea con gli stessi due mesi dell'anno precedente. Cresce dunque in maniera costante in termini di arrivo il turismo in Puglia con un aumento di circa il 7%. Nel primo semestre del 2024 sono stati registrati flussi stranieri in termini di arrivi di oltre il 20%, 15% in termini di presenze. E questo è un dato assolutamente significativo che ci dimostra come la nostra destinazione sia una destinazione assolutamente molto attrattiva. Naturalmente questo dato poi va spacchettato per mercati di riferimento, va spacchettato anche per singole destinazioni perché ormai il sistema pugliese ha la possibilità di avere un'offerta davvero variegata dal nord del Gargano a sud del Salento. E poi vanno considerati i vari mercati di riferimento, una delle constatazioni che si può fare banalmente sempre sul primo semestre è che è preponderante la crescita sui mercati stranieri. Questo ci dimostra che la destinazione Puglia è ormai una destinazione internazionale. Tanti decidono di partire ma molti baresi preferiscono restare in città. In questo servizio abbiamo raccolto le voci di alcuni bagnanti. Sentiamo. C'è chi parte ma c'è anche chi resta. Sono molti i cittadini che decidono di trascorrere le vacanze estive a Bari, alcuni per comodità, altri per ragioni economiche o familiari, altri ancora per scelta. Mentre la gente il primo weekend di agosto inizia ad andare verso altrimenti, lei sceglie di restare a Bari? Io sto bene a Bari, è un bel posto, è una bella spiaggia organizzata, bene, si sta bene. Poi ci sono altri motivi che uno non può andare fuori, economici, personali, dipende. Siamo baresi, ci dedichiamo un po' di tempo libero il sabato. Siamo di questa spiaggia qui vicino casa, quindi approfittiamo di questo. In effetti sì, si sta bene qui, è un posto dove comunque si passa una mezza giornata in tranquillità, in economia anche. Perché no, insomma, restare a Bari poi magari ci sia lontana dopo, in un periodo in cui gli altri si entrano, ecco. Come si sta a Bari? Benissimo, ottimo, veramente se devo dare un voto adesso, io non voglio dire dieci perché è esagerato, però un bel otto ci sta. Qui a Torrequetto, poi altri posti non lo so, qua ci sta benissimo. Quindi vacanza in città ci sta? Sì, senza altro, senza altro, perché se sai quanto costa un litro, mezzo litro d'acqua all'altra parte, 7 euro, 7 euro, mezzo litro d'acqua. Mio figlio è andato a... Deve dire che non è positivo, i servizi che mancano, i bagni, fanno veramente... Non voglio usare dei termini volgari perché è in qualcosa, passano gli anni, i servizi sono da... per non ridire proprio. Invece, al contrario, devo dire che la gente che lavora qua, su Torrequetto, io vedo... Ma se lei va nei bagni, sia di donne, sia di uomini, è qualcosa di impossibile. Però lei sceglie comunque di venire qui? Che alternativa abbiamo? Mi credo. Siate felici, siete a Bari! Bari è un cantiere a cielo aperto in attesa della realizzazione del Parco Costa Sud. Sono due i lotti su cui si sta lavorando al momento a Torrequetta, in zona Bella Vista. Vediamo che punto è la situazione nel servizio di Giuliana Vendola. Bari è in fermento a livello progettuale. Un cantiere a cielo aperto in piena attività, anche sotto il sole coccente di agosto. Si è entrati ormai nel vivo dei lavori del Parco Costa Sud. Un'importante opera finanziata con 75 milioni di euro di fondi complementari al PNRR, che riuscirà a collegare il cuore del capoluogo con Torre a Mare, trasformando il volto del lungomare barese entro il 2026. Al momento gli operai sono a lavoro sulla spiaggia di Torrequetta, nell'area della concessione De Magnale, subito dopo l'ultimo chiosco e nella zona Bella Vista. Si tratta di due dei sei lotti previsti in questo progetto, che mira a realizzare un parco lineare lungo ben sei chilometri. Il cantiere è presente nei pressi dell'Ido Torrequetta, costretto da circa un mese al restringimento della carreggiata sul lungomare di Cagno a Brescia, limitazioni indette da un'ordinanza comunale che resterà in vigore fino al 30 novembre prossimo. Tuttavia i disagi alla circolazione stradale in quest'area non fermano i tanti residenti e turisti, che decidono di recarsi sulla spiaggia cittadina per godersi una giornata di mare. Diventerà Torrequetta davvero una perla a sud di tutto questo grande parco che il comune e che l'amministrazione sta realizzando. È previsto il rifacimento di tutto, proprio dalla pavimentazione che diventerà drenante, permetterà il recupero delle acque, delle dune verdi, i chioschi verranno abbattuti e rifatti. Davvero un bel traguardo che Bari potrà raggiungere. Calabrese ci ha inoltre tenuto a placare le polemiche in merito ai ritardi dell'installazione sulla spiaggia dei Tre Pontili per consentire ai bagnanti con disabilità di accedere al mare. Il secondo è finalmente stato montato in questo weekend, come promesso nei giorni scorsi, anche dall'assessore ai lavori pubblici Nicola Amele. Ieri mi hanno consegnato il secondo pontile, quindi ad oggi, 2 agosto, 3 agosto, abbiamo due pontili perfettamente funzionanti, di cui uno dotato di due rampe per i disabili e uno senza rampe, solo con una bella scarinata sul davanti. E adesso per gli ultimi aggiornamenti dal nostro sito www.telebari.it ci colleghiamo con Italo Cinquepalmi. Buon pomeriggio Italo. Sì, Maricla, incensurati, minorenni e violenti, è il profilo di due presunti responsabili di una rapina compiuta lo scorso 22 luglio in una gioielleria di Via Gelo Petrone al quartiere Carrassi di Bari. Nel loro confronti è stata emanata un'ordinanza di applicazione di misura cautelare della permanenza presso l'abitazione familiare emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni su richiesta della Procura della Repubblica. I due rispondono di reati di rapina aggravata e lesioni. Secondo la ricostruzione effettuata anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i ragazzi sarebbero entrati nella gioielleria fingendosi potenziali clienti e improvvisamente si sarebbero scagliati contro una dipendente scaraventando la terra e addirittura sedendosi su di lei per immobilizzarla, pochi minuti durante i quali si sarebbero impossessati di gioielli per un valore di circa 40.000 euro. La donna, a causa della violenta aggressione, è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso del Policlinico di Bari. La squadra mobile è riuscita a risalire due giovanissimi malviventi anche attraverso le dichiarazioni di alcuni testimoni e a nulla è servito il tentativo di uno dei rapinatori di cambiare aspetto attraverso un diverso taglio di capelli fatto poche ore dopo la rapina. Bene, con questo è tutto per oggi. A te buona giornata. Grazie Italo. Ieri un detenuto ha tentato di evadere dal carcere di Bari un episodio non isolato negli istituti penitenziari pugliesi è dovuto alla carenza di agenti. Ne abbiamo parlato con Ruggero D'Amato, segretario regionale dell'organizzazione sindacale Autonomia Polizia Penitenziale. Sentiamo. Scavalca il passeggio della seconda sezione del carcere di Bari e viene beccato sul muro di cinta del penitenziario. E' il tentativo di evasione di un detenuto avvenuto il 2 agosto nel capologo pugliese che si è fortunatamente rivelato un buco nell'acqua grazie all'intervento degli agenti. Le dinamiche dell'episodio sono al momento poco chiare ma non si tratta di un caso isolato. Solo due settimane fa un altro tentativo di evasione si è consumato nel carcere di Foggia e a febbraio di quest'anno due detenuti sono riusciti a fuggire dal penitenziario di Trani. Un fenomeno che si sta espandendo a macchia d'olio dovuto alla mancanza di personale negli istituti penitenziari a Bari. La carenza si attesta attorno alle 80 unità mentre in Puglia attorno alle 1000. Problematiche denunciate da tempo in memore dal sindacato di polizia OSAP. Questo è dovuto tutto alla carenza di personale e alla carenza strutturale. E' i turni massacranti che fanno i poliziotti e le poliziotti penitenziari che oggi si attestano dalle 10, 12, 14, 24 ore consecutive. Sono turni disumani che non sono più sopportabili per una categoria così delicata che deve produrre sicurezza e rispetto delle norme all'interno dei penitenziari. La politica è assente e totalmente scollata dalla realtà. Noi abbiamo un viceministro, Sisto, che è pugliese. Abbiamo un sottosegretario alla giustizia con delega alla polizia penitenziaria che è venuto molto volte a fare passare in Puglia. Ma sono scollati totalmente dalla realtà dei penitenziari. I penitenziari sono abbandonati a se stessi. Oggi sono piazze di spaccio e sono punti di aggregazione criminali. Ma non dovuto perché la polizia penitenziaria non è in grado. Non si viene messa in grado di poter produrre sicurezza e di poter produrre quello che il compito istituzionale gli compete. Cambia la mappa del commercio di via Sparano e via Argiro con l'apertura di nuovi negozi. Ce ne parla Raffaella Di Renzo. Settembre è tradizionalmente un mese di rinascita e rinnovamento e quest'anno non farà eccezione per le vie più vivaci di Bari. Cambia la mappa del commercio di via Sparano e via Argiro con l'apertura di nuovi negozi nelle arterie commerciali già conosciute per la loro offerta variegata. Cambia in base all'esigenza del consumatore, quindi dalle richieste che si fanno, ma anche cambia a livello commerciale ma soprattutto economico. Molti sono gli investitori che vengono a investire soprattutto in via Sparano e in via Argiro che sono le strade dello shopping bariese senza trascurare le periferie. Via Sparano i grandi brand, mentre via Argiro si sta trasformando un po' nella strada del food, quindi molte attività commerciali, soprattutto del paese e della provincia, vengono a investire a Bari. L'apertura di queste nuove attività commerciali a chi gioverà? Turisti, cittadini? Io mi auguro la città stessa, sia i turisti ma anche i cittadini. Dopo 96 anni e la chiusura della boutique Cima, si aggiunge ulteriore prestigio e fascino a via Sparano che accoglierà il brand di lusso Yves Saint Laurent. Attesa l'apertura del punto vendita a Timberland, dello store Coccinelle, del negozio di gioielli Stroili, della nuova sede, della barberia Aniventi in via Argiro, ma sono anche attese nuove aperture riguardanti punti di ristorazione, la braceria. Questi nuovi arrivi non solo arricchiranno l'offerta locale, ma rappresentano anche un segnale di vitalità economica, riflettendo le nuove tendenze di consumo in cui i clienti cercano non solo prodotti, ma anche luoghi di fusione culturale. Si adeguano in base, ripeto, alle esigenze e anche alla volontà dei commercianti storici e i commercianti locali, che hanno un grande coraggio quello di continuare ad investire in città, mentre altri, purtroppo lo dico, per non cambio generazionale, sono costretti a mollare. E ci spostiamo adesso a Foggia, dove è entrata in vigore una ordinanza sindacale per combattere il preoccupante fenomeno del conferimento di immondizia nel territorio comunale da parte dei non residenti provenienti da comuni confinanti. Ci dice tutto nel servizio Nicola Saracino. E in vigore a Foggia l'ordinanza sindacale che vieta sul territorio comunale il cosiddetto turismo dei rifiuti, ovvero il conferimento dell'immondizia nel capoluogo Dauno da parte di non residenti provenienti da comuni confinanti. Si tratta di un fenomeno preoccupante e dilagante che avviene in più punti della città, specie quelli in corrispondenza di uscite verso altri centri della provincia. Consente alla polizia locale o alle altre forze d'ordine di poter combinare sanzioni a persone che evidentemente sono residenti e domiciliati altrove, ma che comunque per una questione di comodità dovuta al fatto che magari da loro vige una raccolta differenziata porta a porta che è più impegnativa e ovviamente esige anche un conferimento corretto, preferiscono accumulare busse di rifiuti indifferenziati e venirli tranquillamente a sversare nel nostro territorio. Questo è inaccettabile, quindi abbiamo offerto uno strumento alle forze di polizia per poter sanzionare questi cittadini che dovrebbero essere civili nel loro territorio e altrettanto ancora di più nei territori di altri cittadini. L'abbandono irregolare e indiscriminato di rifiuti solidi urbani ha preoccupanti ricadute per l'igiene urbana, la salute pubblica, il decoro urbano e l'ecosistema diventando vere e proprie discariche a cielo aperto che attraggono ratti, blatte e animali randaggi. Andiamo ora a Foggia, a Lecce, scusate, dove il sindaco elimina le piste ciclabili e i ciclisti protestano. Il servizio è di Fabio Serino. La nuova amministrazione guidata dal sindaco Adriana Poli Bortone mantiene le promesse fatte in campagna elettorale e comincia a dare attuazione al suo programma. Primo punto, smontare le piste ciclabili. Ovviamente arrivano le polemiche attraverso i social in cui si sottolinea l'importanza di non tornare indietro e incoraggiare l'utilizzo delle auto e ancora si legge mentre l'Europa va avanti Lecce torna indietro e si allontana da ogni obiettivo di sostenibilità urbana e qualità della vita per i propri concittadini. Lo smantellamento della pista ciclabile è un atto di cattiveria nei confronti della città. Questa mattina decine e decine di ciclisti si sono dati appuntamento per una manifestazione in via 25 Luglio per esprimere il proprio disaccordo. La polizia locale su via 25 Luglio intanto continua a multare le auto che sostano nello spazio dal quale sono stati rimossi i cordoli della pista ciclabile. L'amministrazione comunale in una nota ha ribadito che la rimozione della pista ciclabile è stata dettata solo dalla necessità di garantire sicurezza a tutti gli utenti della strada non certamente per essere spazio da occupare più o meno a lungo con le auto. Era l'ultima notizia grazie per averci seguito l'informazione di Telebari prosegue sui nostri canali social e sul nostro sito www.telebari.it buon proseguimento di giornata ben trovati in un aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica con l'anticiclone interessare ancora la Spagna sud della Francia mentre le correnti oceaniche si muoveranno con moto ovest verso est dal mare del nord verso l'Europa orientale nel dettaglio l'Italia che vedrà a tempo in prevalenza stabile i temporali saranno più a nord a nord delle Alpi però qualche fenomeno ancora interesserà l'arco alpino e l'appennino fenomeni localizzati e molto brevi in sintesi la mappa dell'Italia con il sole in pianura e sulle zone di mare brevi temporali pomeridiani in montagna il caldo sarà sempre un caldo intenso dappertutto ma ha valori un po' più bassi rispetto alla settimana che ha visto anche picchi di 40 gradi al centro sud quindi sarà un caldo intenso ma più vivibile più sopportabile tutti i dettagli gli approfondimenti per i prossimi giorni scaricando l'app di Trebi Meteo grazie a tutti